Benvenuti e benvenute alla presentazione del corso di laurea magistrale in comunicazione, informazione e editoria. Io sono la coordinatrice del corso e oltre a porcervi i miei saluti e i miei ringraziamenti anche da parte di tutti i colleghi del nostro Ateneo per la vostra presenza davanti allo schermo in questo momento e per il vostro interesse per la nostra offerta formativa, mio compito oggi è quello di presentarvi la nostra laurea magistrale e di rispondere ad alcune delle domande che avete inviato nei giorni scorsi. Quindi ora condividerò con voi una breve presentazione del corso di laurea e poi vedremo di rispondere a quelle che sono le vostre richieste. Ovviamente ogni richiesta aggiuntiva, curiosità, puntualizzazione che dovessero emergere a seguito della visione di questa presentazione, a seguito dell'esplorazione della nostra offerta formativa, l'invito ovviamente è quello di rivolgervi a me come coordinatrice appunto del corso di laurea o ai referenti delle varie diciamo attività che il corso di laurea offre che i cui indirizzi mail troveremo, vedremo alla fine della presentazione. Condivido ora la presentazione con voi e iniziamo così a vedere cosa caratterizza il nostro corso di laurea. Bene, comunicazione, informazione, editoria. È una laurea magistrale che appartiene alla classe delle lauree magistrali LM19 in informazione e sistemi editoriali. Il nostro corso di laurea si colloca all'interno di questa tradizione, di questo ambito di offerta formativa, nella diciamo così intenzione di formare professionisti della comunicazione in grado di lavorare con contenuti comunicativi, informativi, promozionali adatti all'ambito delle diciamo così della comunicazione d'azienda, della comunicazione pubblicitaria, della comunicazione e dell'informazione e dell'editoria. Il corso ha due fuochi d'attenzione specifici che sono da un lato quello riferito al tema della comunicazione visiva e dall'altro quello riferito ai processi di innovazione tecnologica e di linguaggio. Quindi la nostra attenzione, diciamo così, focalizzazione specifica è proprio su questi due ambiti, due ambiti che caratterizzano fortemente la comunicazione contemporanea anche diciamo rispetto alla produzione dei contenuti, pensate a che centralità hanno le componenti visuali dei contenuti comunicativi contemporanei e ovviamente pensate alla centralità di tutta la comunicazione digitale che avviene ad esempio sui social media. Tutto questo sullo sfondo però di due diciamo così quadri teorico-metodologici molto solidi che fanno riferimento da un lato alle discipline del linguaggio e dall'altro alle discipline sociologiche. Dal punto di vista poi dell'impostazione didattica generale del corso, altra caratteristica della nostra offerta formativa che è andata consolidandosi nel corso degli anni è un'attenzione spiccata nella direzione della creazione di possibilità di applicazione già durante gli anni della formazione delle competenze teorico-metodologiche acquisite nei corsi all'interno degli ambienti lavorativi. Questo attraverso due strumenti che vedremo poi che sono da un lato i tirocini cui poniamo particolare attenzione e dall'altro i laboratori. Quale figura professionale abbiamo in mente? Abbiamo in mente una figura professionale polivalente, una figura professionale flessibile, una figura professionale che abbia certamente già degli elementi di competenza tecnica, ma che soprattutto abbia l'adeguata capacità metodologica, critica, interpretativa per acquisirne di nuovi durante l'esperienza lavorativa. Siamo in un contesto, quello delle professioni della comunicazione ha ad altissima velocità di ricambio, ad altissimo tasso di innovazione, quindi la nostra sfida è stata proprio quella di fornire competenze di base solide, di fornire specifici fuochi d'attenzione, quello del visuale, quello del digitale, vi dicevo prima, e poi un set anche di competenze subito spendibili, ma che soprattutto si prestino a un continuo processo di adeguamento sulla base proprio delle competenze teoriche, metodologiche, critiche acquisite durante il percorso formativo. Quali sono gli ambiti nei quali i nostri laureati possono andare ad operare? Sono gli ambiti dell'editoria, nelle sue diverse sfaccettature cross-mediali, gli ambiti della stampia, dalla radio e della televisione, le agenzie di comunicazione, le agenzie pubblicitarie, le istituzioni museali, i teatri, le istituzioni culturali in generale, associazioni, enti e di imprese ovviamente, lavorando dove? Lavorando nell'ambito appunto degli uffici o delle spazi professionali legati alla comunicazione. Questo tipo di figura professionale, una figura professionale che i dati Alma Laurea sull'impiego dei nostri laureandi negli anni successivi alla laurea ci confermano essere una figura apprezzata, nel senso che come potete vedere dai dati che vi sto proiettando in questo momento e che trovate anche sul portale Universitali, se consultate la scheda sua del corso di laurea, vedete appunto che siamo perfettamente, se non addirittura, sopra la media nazionale rispetto al tasso di occupazione, decisamente più in alto rispetto al tasso di occupazione al primo anno, e in linea negli anni successivi siamo in linea sostanzialmente con i tempi di ingresso nel mercato del lavoro e ci comportiamo molto molto bene, direi, rispetto a una serie di indicatori, diciamo, che spiegano la relazione, la correlazione fra le competenze acquisite durante la formazione universitaria e le competenze effettivamente spese nel posto di lavoro, che e altre risposte positive le abbiamo sul tema della retribuzione e sul tema della soddisfazione del lavoro svolto. Quindi la nostra definizione di figura professionale, una definizione che in questo momento trova, questo ci dicono i dati appunto che abbiamo a disposizione rispetto all'anno precedente, trova una propria corrispondenza. Come è strutturato il corso? Allora il corso è strutturato in tre curricula, il primo curriculum è il curriculum di comunicazione per le imprese, gli enti e le politiche pubbliche, il secondo curriculum è un curriculum di editoria e comunicazione digitale visiva, il terzo curriculum è un curriculum in giornalismo e informazione. Il primo curriculum indaga in particolare i cambiamenti sociali e organizzativi in atto nelle imprese e negli enti pubblici, cambiamenti sociali e organizzativi che richiedono di necessità anche nuove forme e strategie di comunicazione. Questo sia per quanto riguarda le aziende che per quanto riguarda il settore pubblico. Il curriculum di editoria è un curriculum invece che dialoga con il vasto mondo della produzione di contenuti in ambito editoriale, dove l'ambito editoriale va dall'ambito dell'editoria più tradizionale fino ad arrivare all'ambito dell'editoria crossmediale. In questo curriculum in particolare spicca, come dicevo in apertura, l'attenzione alle questioni riferite all'ambito del visuale. Terzo curriculum è il curriculum in giornalismo ed informazione. In questo curriculum la nostra intenzione è quella di lavorare sul piano dell'innovazione sociale, del cambiamento sociale, da un lato che richiede nuove forme, nuove strategie di racconto e dall'altro di lavorare sul piano proprio dell'innovazione di linguaggio, sia essi linguaggi visivi, linguaggi del giornalismo digitale, eccetera. Allora, come dicevo prima, in tutti e tre curricula esiste una base, un blocco di corsi che si occupa, proprio per darvi le basi della vostra formazione, di questioni riferite al linguaggio, e un blocco di corsi che si occupa di questioni riferite alla trasformazione sociale, sulle quali poi nella strutturazione dei diversi piani di studio vanno a collocarsi invece corsi più specifici che vanno a completare e a finalizzare la vostra formazione nella direzione dell'uno o dell'altro curriculum. In generale, comunque, come vi dicevo in apertura, grande attenzione è posta sempre alla trasformazione della comunicazione. Una trasformazione della comunicazione che è una trasformazione legata ai linguaggi, legata alle tecnologie, ma è anche legata alle trasformazioni sociali più in generale. Una piccola parentesi per rispondere già a quella che è stata una vostra domanda sul curriculum di giornalismo e di informazione. Il curriculum di giornalismo, ovviamente, dà informazione, dà delle competenze che vi consentono di esercitare una professione nell'ambito dell'informazione e del newsmaking. Ovviamente non consente il riconoscimento della professione giornalistica, perché, come sapete bene, quel tipo di riconoscimento in termini di iscrizione all'albo dei giornalisti è un riconoscimento che passa attraverso un iter che prevede o l'accesso delle scuole di formazione convenzionate con l'ordine dei giornalisti o il riconoscimento degli anni di praticantato in una redazione giornalistica. Un'offerta universitaria di livello superiore, qualunque essa sia, non porta a questo tipo di esito. Il nostro interesse non è però appunto portarvi a quell'esito professionale specifico, quanto piuttosto di darvi degli strumenti profondi e flessibili al tempo stesso per imparare a leggere la realtà nella quale noi ci muoviamo, la realtà sociale nella quale ci muoviamo, la realtà culturale nella quale ci muoviamo, e imparare a raccontarla. Come vi dicevo, accanto alla formazione in aula, il corso di studi prevede anche dei momenti di già contatto diretto con quello che è il mondo e il mercato del lavoro. Allora, in primo luogo questo avviene attraverso delle attività laboratoriali. Molti dei corsi offerti durante i due anni di laurea magistrale prevedono ad integrazione della didattica in aula, prevedono anche dei laboratori, laboratori che si costituiscono in un ciclo di ore a frequenza non obbligatoria, chiaramente, che vi permettono di lavorare a stretto contatto con dei professionisti del settore della comunicazione e vi permettono di produrre anche poi dei vostri prodotti comunicativi, ovviamente nell'ambito a cui è dedicato, a cui fa riferimento il laboratorio stesso. L'anno scorso abbiamo attivato, per esempio, dei laboratori sul tema delle professioni legate a copywriting, abbiamo attivato dei laboratori di social media marketing, abbiamo attivato un laboratorio di animazione e comunicazione creativa, un laboratorio di ufficio stampa, un laboratorio di data journalism e poi un laboratorio di videomontaggio. Accanto a questi laboratori, nostra intenzione è per l'anno prossimo quella di andare a potenziare ulteriormente le occasioni di formazione, ripeto, non obbligatorie, che vadano ad integrare la vostra formazione attraverso l'acquisizione di competenze tecniche, pratiche specifiche, ad esempio rispetto alla gestione di particolari programmi o particolari software utili nello svolgimento appunto delle professioni legate alla comunicazione, come possono essere appunto quelle riferite al videomontaggio di cui vi parlavo poco fa. Oltre ai laboratori, occasione importante, diciamo così, di attivazione pratica già durante il corso, sono i tirocini. Al secondo anno noi abbiamo un tirocino questo sì obbligatorio, che appunto prevedono la presenza in azienda dei nostri studenti per 250 ore che corrispondono a 10 CFU. Questi tirocini sono svolti in aziende del territorio, in aziende ma non solo, abbiamo tirocinanti che sono andati anche fuori regione e in tutta Italia e addirittura è possibile svolgere anche dei tirocini all'estero, questo nel quadro della mobilità Erasmus Plus o nel quadro di accordi che vengono appunto stipulati ad hoc per i tirocini. Teniamo molto questo aspetto di tirocini, tant'è che, come dire, l'attività di tirocino è sempre preceduta da una serie di colloqui informativi fra noi e gli studenti e fra noi e le aziende che ospitano i nostri tirocinanti, in modo tale da rendere l'esperienza di tirocino il più significativa possibile, il più tagliata possibile su quello che è il profilo dello studente e anche potenzialmente renderla un'esperienza da cui possa partire un ulteriore percorso di approfondimento, ad esempio nella tesi di laurea magistrale. Altro aspetto che caratterizza e che distingue la nostra laurea magistrale è quello riferito alla mobilità internazionale. Sul tema della mobilità internazionale vi rimando alle sezioni del sito dell'Università di Bergamo che approfondiscono tutto quello che l'Università offre in termini di scambi Erasmus, in termini di scambi di mobilità in destinazioni mete extraeuropee, per cui su quello, anche se troverete poi una slide dopo questa su questo tema specifico, il rinvio è al sito web dell'Università. Voglio però presentarvi brevemente un aspetto che caratterizza invece la nostra laurea magistrale che è quello dell'accordo di doppio titolo con la Farley Dickinson University che si trova negli Stati Uniti, in New Jersey, a poche, a breve distanza da New York. L'Università degli Studi di Bergamo e appunto l'Università statunitense hanno stipulato, e l'accordo ormai è in vigore da parecchio tempo, per cui un accordo assolutamente consolidato e rodato hanno stipulato questo accordo, per cui è possibile per i nostri studenti conseguire contemporaneamente la laurea magistrale in comunicazione di informazione e di teoria rilasciata dall'Università di Bergamo e il Master in Communication rilasciato dall'Università statunitense, se i nostri studenti appunto frequentano presso l'Università Partner una parte prestabilita del corso di studi. Anche su questa possibilità che è appunto una caratteristica del nostro corso di laurea, una caratteristica di grande successo, nel senso che, come vi dicevo appunto, è da anni che questo accordo è in essere e ogni anno abbiamo scambi appunto fra i nostri studenti e appunto abbiamo studenti che raggiungono il doppio titolo. Anche su questo aspetto, per tutti i dettagli tecnici, vi rinvio al sito web, sia del sito web del corso di studi, che ha una pagina dedicata a questo tema, che più in generale ha le pagine riferite alla internazionalizzazione. Bene, questa è la nostra offerta formativa dal punto di vista del suo taglio culturale. Vediamo adesso alcuni aspetti di carattere più tecnico che fanno riferimento alle modalità di accesso e che iniziano a rispondere ad alcune delle domande pratiche che ci avevate inviato. Allora, che requisiti sono necessari per poter accedere alla laurea magistrale in comunicazione, informazione e editoria? È necessario il possesso di un diploma di laurea o di un titolo universitario equipollente ed è richiesta la competenza in ingresso di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano di livello B2. Ci sono tutta una serie di studenti che possono accedere senza debiti di verifica al corso di laurea e vedete elencati sulla slide ma ancora una volta l'invito è quello di consultare e a consultare il sito e sono gli studenti laureati in scienze della comunicazione, gli studenti laureati in beni culturali, discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda, filosofia, lettere, lingue e culture moderne, mediazione linguistica, sociologia, storia e gli studenti dei corsi quinquennali o quadriennali per cui è prevista la corrispondenza con le classi di laurea che ho appena citato. Gli altri laureati di altre classi di laurea possono accedere ovviamente se possiedono però almeno 60 CFU in una serie di settori scientifico disciplinari che trovate anch'essi indicati nella pagina del corso. Quindi gli studenti delle classi di laurea che ho citato prima non devono sottoporsi diciamo a una verifica personale dei prerequisiti per quanto riguarda la tipologia di titolo di studio. Negli altri casi invece è necessario verificare l'acquisizione di almeno 60 CFU definiti appunto dall'ordinamento del corso di studio. Come viene verificata la presenza di questi 60 CFU o gli altri prerequisiti per esempio quelli riferiti alla lingua vengono verificati tramite un colloquio individuale obbligatorio per tutti gli studenti che è volto appunto a verificare la preparazione personale il possesso dei requisiti curriculari la padronanza della lingua italiana e la conoscenza appunto della seconda lingua così come indicato dai prerequisiti. Quando si terranno questi colloqui? Questi colloqui si terranno fra il 22 giugno e il 3 luglio per i 2020 per i preiscritti dal primo april al 29 maggio o fra il 24 settembre e il 2 ottobre per i preiscritti dal primo luglio al 4 settembre. Le date dei colloqui precise verranno definite nei prossimi giorni e verranno specificate sul sito web del dipartimento e del corso di studi e comunicate agli studenti prescritti. L'immatricolazione poi se in possesso dei requisiti curriculari dell'adeguata preparazione potrà venire dal 13 luglio al 30 ottobre. Anche qui trovate in calce il link al sito web dove sono indicate tutte le procedure e le modalità. In questa slide vedete purtroppo non potete venirci a trovare fisicamente in questi giorni ma vedete l'edificio di Via Pignolo che è l'edificio in cui si trova il Dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione vedete le aule che scendono fino al prato e agli spazi comuni della sala studio e della mensa e nell'altra immagine vedete la collocazione del nostro dipartimento sulla via che sale appunto su Via Pignolo e poco lontano da la sede di Sant'Agostino dove si trova la nostra aula magna dove si trova la biblioteca. Bene, vediamo adesso di rispondere ad alcune delle domande che sono arrivate tramite appunto il forma che avevamo predisposto e alcune domande che diciamo sappiamo essere ricorrenti durante la presentazione dei corsi di laurea magistrale. Allora, la prima domanda si riferisce al numero chiuso o meno no, il corso non è a numero chiuso quindi non vi sono di fatto differenze nell'effettuare la prescrizione al primo o al secondo periodo non è un corso a numero chiuso. Sì, è obbligatorio per tutti anche per gli studenti che appartengono alle classi di laurea che diciamo sono automaticamente coerenti con la nostra offerta formativa perché è un colloquio comunque volto a verificare anche altri tipi di requisiti. Se Tempiro propone il colloquio molti di voi ci hanno scritto come si svolgerà il colloquio qualora dovessero perdurare le vigenti restrizioni. Beh, in questo caso evidentemente il colloquio verrà svolto in modalità telematica e verrà svolto secondo modalità che verranno precisate e pubblicate sul sito oltre che comunicate agli iscritti al colloquio ai pre-iscritti quindi agli iscritti al colloquio che verranno appunto iscritti automaticamente. Chi può già pre-iscriversi anche ci chiedevate? Possono pre-iscriversi le persone che hanno queste caratteristiche gli studenti già laureati in possesso dei requisiti curriculari gli studenti laureandi entro la sessione straordinaria di marzo-aprile 2021 in possesso dei requisiti curriculari questi requisiti curriculari possono essere in questo caso sia gli esami sostenuti che gli esami comunque presenti nel piano di studi che verranno sostenuti entro la fine del percorso triennale gli studenti laureati iscritti ai corsi singoli 19-20 studenti che si erano iscritti appunto ai corsi singoli per poter maturare i CFU necessari all'ammissione al corso di laurea magistrale in quei 60 CFU di cui parlavamo prima. Questo mi consente di rispondere a un'altra vostra domanda vale a dire se non avete la classe di laurea corrispondente e non avete neanche i 60 CFU vi potete iscrivere ugualmente quest'anno no non potete potete però iscrivervi iscrivervi ai corsi singoli in modo tale da maturare i 60 CFU necessari come vedete appunto nella domanda che apre questa seconda slide quindi potete farlo questo in prospettiva dell'immatricolazione nell'anno accademico scusate c'è un errore 21-22 cioè dell'anno accademico successivo possono essere riconosciuti i CFU materati in precedenti percorsi magistrali interrotti sì ovviamente previa valutazione del consiglio di corso di studio veniamo poi a un altro ambito di domande che è quello riferito all'obbligatorietà della frequenza allora la frequenza non è obbligatoria non è necessario che voi frequentiate tutte le lezioni chiaramente non lo spuchiamo perché ci piace avere contatto con voi e ci piace appunto che sia possibile essere in aula assieme così come auspichiamo la vostra frequenza ai laboratori ma non è comunque un obbligo viceversa è un obbligo il sostenimento del tirocino il tirocino è obbligatorio e non può essere sostituito automaticamente da una pregressa attività lavorativa tuttavia è possibile valutare se la propria attività lavorativa è coerente con il percorso di studi quindi progettare con il sostegno dell'appunto il nostro responsabile delegata dei tirocini progettare una attività di tirocino on the job se ci sono chiaramente le condizioni le condizioni se ci sono le condizioni appunto adatte bene queste erano un po' le domande che voi avevate avevate anticipato ci sono poi altri ambiti altre domande che fanno riferimento alla mobilità internazionale e vi rinvio appunto al sito web per rispondere a questa domanda specifica che fanno riferimento all'ambito delle tasse e delle eventuali agevolazioni nello studio e anche per quello il rinvio è al sito e ci sono poi altre domande che fanno e sempre per il sito il rinvio il rinvio al sito vale anche appunto per tutte le informazioni tutti i servizi a disposizione degli studenti che avessero esigenze particolari ripeto ancora scusandomene che nella prima domanda nella risposta alla prima domanda c'è un errore e i CFU necessari che potrete acquisire con i corsi singoli saranno spendibili per l'immatricolazione all'anno 2021 e 2022 non 2020 2021 ecco siamo giunti alla fine della presentazione e vi lascio appunto il mio contatto e vi indico quelli che sono i referenti per le diverse per le diverse aree a cui potete tranquillamente rivolgersi che sono la postoressa Pisanti per ciò che fare per tutto quello che ha a che fare con l'orientamento in ingresso con il colloquio di ammissione con i piani di studio il professor Dondi per il tema delle disabilità e del DSA o comunque per rispondere a studenti che dovessero avere esigenze specifiche per i tirocini potete contattare la professoressa Pizzolati per la mobilità internazionale la professoressa Scalise e per quanto riguarda l'accordo di doppio titolo il riferimento sono nuovamente io in generale l'invito è comunque quello di consultare il sito web del corso di studi della laurea magistrale in comunicazione informazione editoria e il sito web del dipartimento di lettere e filosofie di comunicazione oltre a che oltre a questo ovviamente poi c'è tutta l'area del sito che è stata predisposta per per le matricole per appunto le persone che si iscrivono all'università di Bergamo a partire dal prossimo dal prossimo anno accademico o anche per i nostri studenti triennali che volessero continuare con la nostra laurea magistrale ma che appunto hanno bisogno di ulteriori informazioni proprio sul processo di iscrizione ora io vi ringrazio nuovamente nuovamente della della vostra della vostra attenzione e vi ringrazio nuovamente della vostra della vostra attenzione e mi auguro di appunto avere presto l'occasione di incontrarvi di vedermi e di vedervi e spero appunto che possiate iscrivervi e vogliate iscrivervi al nostro corso di studi davvero grazie per il tempo che avete dedicato a questa presentazione e come vi dicevo aspetto vostre ulteriori domande richieste curiosità e come me anche i colleghi sono che ho indicato precedentemente sono a disposizione per confrontarsi confrontarsi con voi di nuovo grazie e a presto